Cosa per te? Rilevo, te lo sapevo. Dovevi uscire allo scoperto. Benvenuto al tuo funerale! Sento il refrigerante pompare nei raccordi. Fai una collezione o cosa? Beh, niente. Ehi, sono tornati. Per favore, abbassa l'arma. Tocca proprio a te! Sicuramente, provi terrore. Cazzo, perché non vi fa fare? Voglio usare gli steampack e non me lo faccio usare. Basta, tormaglietto. Fammi caricare. E magari usiamo qualcosa di... Piuttosto... Devo porre fine alla tua esistenza. Tocca proprio a te! Eliminazione completata. Eseguo il protocollo dell'istituto. Ok, diamo una salvata. Eliminazione della presenza ostile. Non so, ragazzi, che ci serve un modo particolare. Allora, ma io ho fatto prima di fare così. Ok. 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 E' stato a spese. Bene. Che sta correndo come un pazzo. Ok, questa era la porta. Si sale. Piano. Ma che si faceva... A usare... Si scende. Piano. Oh, missile. Dov'è? Lancia razzi, lancia razzi. C'è qualcuno. Arriva qualcuno. Questo è forse un tentativo di imboscata. Ah, questo è un'altra sana. Beh, è funzionato, no? C'è una mina laser. Eh... a meno che non siano le scale si forse ne sono le scale qui ecco ecco bene bene tutto questo è per dei radix ps va avanti se proprio devo allora prenditi magari no no quelli poi ti do i miei materiali bravo bravo ma guarda un po' chi è uscito dal frigorifero l'ultima volta che ci siamo visti eri più simile a un ghiacciolo che altro wow torna che non sono andato avanti ah ma è così che funziona la difesa tesla quindi le cose antiche ti piacciono proprio eh che mi rompete tutti i coglioni oh ho sentito un rumore di una torretta sì non c'è da guardarsi di prebenino tocca proprio a te mi metti ottimo lavoro magari mi metto mangio qualcosa giusto per non c'è di non c'è non c'è se mettere ma non c'è non c'è non c'è Mi spiace che casa tua sia distrutta da duecento anni, ma non cerco compagni di stanza. Vattene. Vattene. Ma poi pensavo che il Commonwealth ti avrebbe divorato. Ora capisco, ti nascondi perché temi la morte. Ecco ti. Cos'è stato? Impossibile starmi lontano, vero? Eeeh, quasi un successo. Opsa, opsa. Iliminazione completata. Buono. C'è cosa c'era qua? No, ho preso un film come dentro. Posso entrare? Vedere? No? No, sono porte magnetiche. Eeeh, torace sintetica. Dovevo andare di qua. Dovevo andare di qua. Ascolta, hai tanta rabbia dentro. Ti capisco. Ma perché non ne parliamo? Vieni. Sì. Ma cosa speri di ottenere qui? Eh, non sarà piacevole per te. Ma secondo me, ragazzi, dopo... Prendete la prima volta... ... ...